cari lettori pane al pane come vedete quest'oggi ho deciso di cambiare scenario di cambiare sfondo per questa nuova puntata della rubrica parole di casa l'ho fatto anche per variare un po il paesaggio di queste comunicazioni digitali perché non so se l'avete notato anche voi ma io nell'ultima settimana ho avuto modo di capire che gli italiani sono un popolo di lettori compulsivi perché nel 99 per cento degli sfondi di video che arrivano in televisione sui social ovunque ci sono pile di libri anzi scaffali di libri che campeggiano forse c'è un'idea del libro più come complemento d'arredo che come strumento di conoscenza e di evasione ma questo è un altro discorso la ragione per cui vi trovate quest'oggi nella mia cucina però non è diciamo così puremente estetica è perché il tema di quest'oggi è strettamente legato al cibo al cibo come lavoro e al cibo come gioia della vita facciamo un breve salto indietro andiamo a monte e cioè al supermercato oggi siamo abituati a concepire il nostro giro settimanale o bisettimanale o quindicinale al supermercato ormai come un'avventura è diventata un'esplorazione di mondi sconosciuti quando fino a poco tempo fa era una operazione tanto banale quanto a volte noiosa e persino fastidiosa adesso stiamo bravi e buoni in coda in attesa di entrare rispettando con educazione responsabilità le distanze di sicurezza una volta entrati ci pare di essere in una realtà aumentata sgraniamo gli occhi di fronte all'abbondanza alla disponibilità di cose da comprare e che prendere da prendere da buttare nel carrello questa realtà aumentata però diventa per così dire una realtà diminuita nel momento in cui ci presentiamo davanti allo scaffale della farina e del lievito questi due elementi primari della nostra tavola sono andati a ruba non nel senso che la gente li ha rubati ben inteso ma perché sono diventati veramente un oggetto del desiderio anzi due oggetti del desiderio perché perché tutti si sono messi a fare il pane il pane è diventato l'elemento centrale della vita di molti il lievito il lievito comprato il lievito madre il lievito padre genitore 1 genitore 2 insomma siamo tutti o quasi in preda a una febbre da pane ebbene questo certo ci riporta al fatto che il pane è diventato è da sempre il cibo primario ci riporta alle nostre paure di non di non avere di che sfamarci ma è anche come dire il ritorno a un cibo talmente radicale che nella bibbia ebraica il pane viene dalla terra si chiama proprio lechem a aretz cioè il pane della terra è il cibo primario ciò che ci consente di continuare a vivere e poi è come dire c'è anche una dose di mistero nel pane il mistero sta nel vedere un elemento come l'acqua e un ingrediente primario come la farina diventare qualcosa di così diverso è quasi magia quella che ci dà il pane soprattutto se lo facciamo in casa e lo lasciamo lievitare e vediamo come si trasforma sia da crudo sia nella sua cottura quindi c'è quasi un diventare un tornare ad essere un po bambini nel nell'affrontare nel prepararsi ad assistere alla magia del pane e di come si fa in casa invece di comprarlo banalmente come quasi tutti noi abbiamo sempre fatto fino all'inizio di questa reclusione di questa emergenza e ecco ma il pane è anche storia e anche le letterature sono infiniti i richiami a questo cibo primario il primo e ultimo perché è il cibo che più ci manca quando non c'è e quindi vi consiglio innanzitutto di tornare a un episodio biblico strugente nella sua delicatezza che è quello in cui gli angeli vengono ad annunciare vestiti da viandanti che abramo avrà un figlio malgrado la sua tarda età e abramo accoglie questi viandanti nell'ora più calda del deserto li fa entrare al fresco sotto la tenda e la prima cosa che fa è ordinare a sua moglie Sara che tanto per cambiare era in cucina di preparare del pane e dell'acqua per dissetare e sfamare questi sconosciuti che in realtà vengono dal cielo ecco di lì in poi la storia del pane è sempre molto affascinante e ricca ricca di tanti ingredienti quindi pane al pane lievito permettendo e buon appetito